Angrigento e crisi idrica, ascoltiamo un breve intervento del sindaco Franco Miciche. A regolamentare l'erogazione, tipo anche il borgo di Giardina Gallotti. Per le altre frazioni e per gli altri quartieri si sta lavorando intensamente, ho un contatto diretto anche con Sicilia Acqua e a breve poi ci saranno anche delle novità.